Questa versione autunnale dei Malatesta Fano è per destagionalizzare un po' quelli che sono gli eventi che di solito si ammassano nel periodo estivo ma soprattutto per dare un taglio anche un po' più culturale alla manifestazione che di solito nella parte estiva è più a livello di spettacolo. In questa quattro giorni di ottobre proporremo sia delle presentazioni dei libri per quanto riguarda il venerdì e la domenica e invece presenteremo anche dei cortè, una fiaccolata con più di cento figuranti il giovedì sera che arriverà alla chiesa di San Francesco dove ci sarà poi la proiezione di un documentario della risumazione della Salma di Pandolfo che concluderà il tutto con un suggestivo monologo sulla vita di Pandolfo III a cura del Teatro Altre Marche e come detto continueremo con la presentazione di un libro il venerdì a cura di un giullare nostro amico che noi chiamiamo Virgola in arte alias Virgola che presenterà il suo libro il venerdì, il sabato ci sarà lo spettacolo sempre a cura del Teatro Altre Marche che abbiamo già presentato in questi mesi che è alla corte di Pandolfo Malatesta e concluderemo con l'ultima presentazione dei libri domenica sempre con dei nostri colleghi di rievocazione che sono i giullari del diavolo Preside, la sua scuola è sempre più così portata ad interagire con la città? Noi crediamo che sia una nostra missione, fra virgolette, quella di avere un rapporto fecondo col territorio in cui ci troviamo in questo caso poi in particolare siamo noi un liceo umanistico quindi ciò che riguarda il patrimonio storico umanistico della città, del territorio è per noi un elemento portante. Aggiungiamo anche il fatto che avendo la possibilità di poter presentare i monumenti anche a eventuali turisti stranieri, i nostri studenti del liceo linguistico sentono un particolare vocazione in questo senso poi abbiamo anche un'aggiunta significativa cioè l'incontro che i nostri studenti possono fare non solo con le cittadine di Fano cui presentare i monumenti stranieri o locali ma anche ragazzi più piccoli delle scuole elementari cui presenteranno questi documenti, questi monumenti cittadini e faranno crescere anche in loro nelle giovani generazioni, cittadini di domani, già di oggi, di domani in particolare il senso di appartenenza a una realtà storica come la nostra che è ricchissima Questa associazione rappresenta assolutamente un fiore all'occhiello per la nostra città perché ci consente innanzitutto anche in questo periodo autunnale di portare all'attenzione voglio dire un momento storico delle iniziative che coinvolgono poi tutta la città l'amministrazione comunale non può assolutamente che non sostenere questo tipo di iniziative attraverso la presentazione di libri, quindi attraverso la cultura, l'arte, la storia che in questa città la fanno da padrone ma attraverso l'interazione appunto con gli studenti e con i cittadini stessi per cercare di rivivere quello che è il passato ma che è ancora vivo nel nostro presente